Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, l'amicizia Trompanda e un'orsa, dell'episodio numero 3, Il saluto dell'orso. Buon ascolto. Dopo che Chan conobbe Ursula e fece ritorno al parco faunistico, Ursula, ascoltando la sua amica Panda, tentò di dimostrare alle persone che gli orsi del Trentino non sono belve feroci, assettati di sangue, come credevano, ma animali timidi, da rispettare. Perciò Ursula, con determinazione, si incamminò verso le cascate dell'Ares, dove incontrò un gruppo di campeggiatori, che stavano facendo un'escursione nel bosco. Eccitata Ursula, da lontano iniziò a salutarli, sperando che l'avrebbero notata. Purtroppo, però, nessuno capì il suo gesto gentile, Perciò, delusa, si sedette su un macigno, dove, per sua fortuna, si accorse che un campeggiatore era rimasto indietro. Lieta di aiutarlo, Ursula si avvicinò al ragazzo, indicandogli la via da percorrere. Il ragazzo, sebbene spaventato, si fidò dell'orsa, comprendendo le sue buone intenzioni, il quale riuscì a ritrovare il gruppo. Fu in quell'istante, che Timoti, lo scoiattolo, vedendo la scena, disse ad Ursula, Hai compiuto un gesto molto bello, giovane orsa. Sappi, però, che il percorso della pace, tra uomo e orso, sarà lungo e faticoso. Ricordi l'orsa Gaia J.J.4.? L'orsa, che aveva ucciso mesi fa, un ragazzo in Val di Sole? Ho saputo poco tempo fa, che sarà trasferita in Romania. Non so cosa abbia in mente l'uomo, ma sarebbe utile parlare con Gaia J.J.4. Al Casteler, prima che sia trasferita. Ursula, ascoltando Timoti, lo ringraziò per le informazioni che gli aveva rivelato. Poi, senza indugio, si incamminò al Casteler, dove avrebbe incontrato Gaia J.J.4. per l'ultima volta. Questo è il disegno. Bene, ringrazio dall'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, l'amicizia Trompande un'orsa, dell'episodio numero 4. L'orsa J.J.4 viene trasferita. Buon ascolto. Dopo una lunga camminata, Ursula arrivò al Casteler, incontrando l'orsa Gaia J.J.4, che, vedendola, gli disse Ciao, Ursula, amica mia. È bello rivederti. Sono molto dispiaciuta per ciò che ho commesso, credimi. Il mio istinto materno ha causato un sacco di guai. Non solo sono stata separata dai miei figli, ma sono stata anche giudicata come un'orsa assassina che ha alimentato l'odio tra l'uomo e Urso. Non volevo che succedesse questo, Ursula. Sono molto pentita per la situazione che ho causato. Non volevo fare del male al ragazzo. Ursula, vedendo l'amica Gaia piangere, gli disse Gaia, purtroppo il passato non si può cambiare. Anch'io sono molto dispiaciuta per la drammatica situazione che si è creata. Ti prometto che risolverò questa faccenda e riuscirò a portare la pace tra uomo e urso. È una promessa. Gaia, commossa, ingraziò molto Ursula per avergli dato una luce di speranza credendo che essa sarebbe riuscita a portare la pace in Trentino. Poi, giunto pomeriggio, Gaia JJ4 fu trasferita in Romania al centro faunistico Liberty Bear Sanctuary dove fiduciosa non smise di pensare al coraggio di Ursula. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. Sebbene nel racconto l'orsa JJ4 sarà trasferita in Romania nella realtà che era portata in un oasi alla foresta nera in Germania, il ragazzo invece è da un anno che è morto a differenza del racconto che dice che era passato solo un mese.